Ciao a tutti da Tiger, siamo nella parte 9 di Crash Bash con la mia ragazza Ciao a tutti Vi ricordo che questa sicuramente sarà o la penultima o quasi la penultima parte e poi ci sarà la parte finale perché ormai questo qua è l'ultimo piano e quindi siamo quasi alla fine del gioco Allora, la scorsa volta abbiamo battuto il boss e abbiamo preso tutte le gemme e i cristalli necessari per andare contro il boss Ora abbiamo, il quarto e l'ultimo piano abbiamo 3, 4, no aspetta ho sbagliato Sono andato nel... Ero nel piano 3, ero nel piano 3, aspetta aspetta, no nel piano 3 si Fammi andare, fammi andare Ecco, questo è quello vero, che sono 3, 4, 5, 6, 7... 7 livelli, amore Ce n'è uno in più C'è quello delle palline, meglio perché comunque poi quando dobbiamo andare a prendere i cristalli e le gemme avremo più possibilità di farle senza fare tutti i livelli Ma per forza perché sennò non raggiungeresti i trofei, quindi superando tutti i livelli raggiungi i trofei Poi c'è quello la nel ghiaccio C'è quello dei colori, che è l'ultimo C'è questo qua C'è questo qua che non so che cazzo sia, è un livello nuovo Questo qua non so che cazzo sia E non c'è più quello delle macchine comunque Mi sa che ci sono 3 livelli nuovi Comunque è buono che ci sono tanti livelli perché dato che comunque non vuoi tutti i cristalli e le gemme del gioco per arrivare ai boss Più livelli sono, più hai possibilità di prendere magari gemme, puoi scegliere dove prendere la gemma e il cristallo senza magari fare tutti i livelli e stressarti Allora andiamo in... proviamo il primo, dai Facciamo 3 Mi faccio quello dei cristalli, no, mi faccio quello della neve Allora, vediamo cosa è cambiato in quello della neve, mi sa che sempre è uguale Sei lo smoking, l'ho allora Come fosse un po' Mi sentiero come fosse un po' No, ma non dico via di farlo. Ma vabbè che ci sono tre round, mi passa la voglia, capito? Non è veloce sto gioco. Ok, un round l'abbiamo vinto. Ma quale sei facendo? Quello del... dell'orsocchiotto sul ghiaccio. Ok, secondo l'abbiamo vinto pure. Anzi, mi è cacciato il secondo scontro. Un'altra volta mi prendo la... La coppetta! Ma che doppietta! Ho preso la bomba, mo? Praticamente già loro due gliel'avevo tolto il pupazzo di sotto con la bomba. Ero rimasto senza bomba. Mi si avvicinano tutte e due contro di me, che mi volevano buttare via. Lancio una bomba, li prendo in pieno, tutte e due, poi me li faccio scoppiare tutte e due, ho vinto. Ma c'è più il tempo però. E me sono preso la prima coppetta, figlioli. Proviamo dei livelli nuovi. Sai cosa voglio provare? Ma tu l'hai vinto questo? Sì. Vediamo questo qua, l'ultimo vicino al boss voglio provare, vediamo com'è. Provalo tu che io vedo se riesco a vincere qua. Vai. Fai scoppiare i tuoi palloni, saltando per vincere i punti. Per vincere cerca di avere il maggior punteggio allo scadere del tempo. Premi un guardato per attaccare gli avversari, X premia per saltare. Ok. Questo è il nuovo, ci sono i palloncini. Vieni con me. Ma pigli i colori, ooo, pigli il puttame. Ma me lo prendi. Ti devi andare lì bene vicino, tesoro mio. Tesoro della mamma. Ho preso tre punti, figli. C'è un'altra cosa. La spera a polvere. Il pallone è male. Ma guarda che giochi in merda, io apri i palloni vigenti. Tutti gialli, so. Ottimo. Questa è pericolore. Sì, guarda Achille. No, questo è difficilissimo. No, ha vinto il corinio. Prima è difficile, amore. No, va bene, va bene, va bene. Ma non li prende, bello. Ma poi a me i miei colori non arrivano mai. Ma non li prende manco, bello. Eh, ma vengono sempre loro, perché a me a un certo punto non escono più colori gialli. Sì, era poveri. Ma te cacca, però me lo bloccano subito, dai. Siete dei vidi di puttana, di quella groccia di chi te è morto. Guarda, i palloni tutti verdi. Tutti rossi, tutti gialli. Non ci vengono mai. E tu rompagli le. Ieri vi rompono, vai ieri a rompono. Non ci stanno proprio. Pocca ieri tutti. Oh, 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 oh. Mi sa che c'è la mano, ce cazzo. Pira polvere. E mi rompia la minchia a rio con la Gesù Cristo. Oh, mangiare la faccia. Ma dai, non le possono fare le cose così disfisite. Ma va solo a culo sto gioco, sto gioco va solo a culo. Quello è il problema, va tutto a culo. Non ha un fottuto senso. Ma ci fanno vicino e mica le rompono. Sì, ne ho presi già 30, ne ho presi i palloncini, non mi arriveranno mai. Non sa parte, questo livello è mio. Tutti gialli, vai, vai, vai tutti gialli di nuovo. I palloncini, come sono belli. Vai, mi manca solo un round e ho vinto. Mo' devo soltanto sperare che la scimmia non vince. Perché se vince la scimmia ho un round, mo' e io non l'ho vinto. Che bello, 17. Perché mi sa che pure sto round è mio. Ma quando... Oh, quando... Se prendi la spira povera riesci a non farti colpire per qualche secondo, ne prendi tantissimo. Provare per credere, eh. Il problema è che non mi arriva mai. Sei un po' sfigatella in questo gioco. Non so. Solo le scarpe mi hanno vinto. Sììì! Coppetta presa! Sììì! Giungle Fox. Devo trovare questa è la giungla. Questa mi sembra che è un altro livello nuovo. Vediamo un po'. Mi portiamo tutte le novità in questo video. Ma è quello del bag... Come cazzo può essere quello del bag... Ma come prendo l'aspirapolvere e mi vengono addosso? Tutti i carri... Ma come fai se... Ma lo fai se... Ah, è quello del carri amati questo. Bello. 3, 2, 1, via! Un round lo vinto. Un round lo vinto. Capito? Bravo. Stai concentrato. 3, 2, via! Sììì! Il primo round vinto. Ma non gli acquoli di bazooka sono un portento. Signore, signore. 3, 2, via! Ma perché tutti contro di me? Scusa. Kong vince! Ma se la prendo tutti con me se la prendo. Ma quello è il bello. Vabbè. 3, 2, via! Poverini. Secondo round vinto. Me ne manca uno che vingo pure a fa la coppetta. Io volevo chiudere. Faccia, faccia mia. 3, 2, 1, via! siiii ho vinto la colpetta mamma mia vado sono forte pure qua pure quello dei carri e siamo già a tre coppia ragazzi, vi regalo l'ultima dai, ve lo prometto, vi regalo l'ultima ecco, c'è quattro livelli che ho fatto in questo, in questo, vediamo Toxis Dash e mi sa che è un livello nuovo Toxis Dash, oppure quello la che devi lanciare le casse per l'ultimo tipo, così la faccio, gli ultimi tre livelli li abbiamo completati, più uno davanti, ma quello delle macchinine questo, porca troia, oh mio dio ci sono i cosi qua, i barili esplosivi però, non devi caderti, è bruttissimo no mi devi spiegare come si fa, è la puttana come è difficile questo la nostra Lady Tiger è ancora online, mi stanno iniziando a me, guarda come faccio, hai capito come delle macchinine fa come, mentre giri intorno per fare i giri esce un mostro con la melma di fuori, che ti schiaccia, ce ne si vede che è dolce, esce Shrek, Shrek, the incredible bitch, vada, non vado a tutti i dosi, dopo che venisse una volta freccata e morese, volante a me lo fai a finire sto cazzo di giro e non mi spingi ogni poco, aspettavo a piassare un mucangre, guarda che mi buttano sempre fuori, ma che cazzo volete dalla mia vita? per quanto mi fanno sempre cadere? ho vinto io vaffanculo, scato il tempo e c'ho meno giri di tutti più giri di tutto, è il culo, buttate fuori, buttate fuori, prendete tempo a buttare fuori me la metto al culo a tu ho vinto, sai che sei controllo, me ne mancao uno, pure quella delle macchine che ho aspettavo se vengo un altro round, altri due giri, Tiger vince, le stelline tu una volta che ce l'hai, fermi cerchio quando è vicino a un amico lo spingi giù, butta un raggio intorno a te che lo spingi giù, un giro devo finire e ho vinto, e Tiger vince la coppetta anche qua ragazzi, ve l'avevo promesso, vi ho regalato quattro coppette, quattro coppe, quattro livelli completati, ma ne mancano solo tre, per avere tutte le coppe e fare tutti i cristalli, e questo però lo faremo nel prossimo video se poi la mia ragazza riesce a fare tutte le coppette, vi regalo tutte le coppette in questo video non credo quindi lo chiudiamo, che dice? si, si quindi se qualcuno vedrà questo video e si appassionerà tantissimo e vuole vedere la continuazione in questo video, se la prende con la mia ragazza no vabbè scherzo, devo comunque chiuderlo, non possiamo cambiare le regole dei video, li abbiamo sempre fatti così quindi, ciao a tutti da Tiger, alla prossima ciao a tutti ragazzi ciao a tutti